sei su radio trust il podcast di approfondimento scientifico tecnico e professionale benvenuti in questa seconda parte sulla fiscalità del trust affrontiamo in questa seconda puntata appunto l'argomento della circolare e le imposte dirette io sono saverio zeni vi accompagnerò negli episodi di radio trust dove approfondiremo con vari ospiti le tematiche sul diritto del trust e sul contratto di affidamento fiduciario sono sempre con noi il professore avvocato giuseppe cora saniti e il professore avvocato thomas tassani buongiorno professori buongiorno e grazie ancora per l'invito giorno già nella puntata precedente abbiamo argomentato sulla circolare emanata appunto dall'agenzia comunque sulle imposte indirette però dobbiamo affrontare anche per quanto riguarda la fiscalità del trust le imposte dirette quindi professor cora saniti come cambia secondo lei appunto il regime fiscale dei trust trasparenti non residenti con riferimento appunto al requisito della territorialità procediamo con ordine il trust si considera trasparente quando i beneficiari sono individuati quindi non soltanto nominativamente individuati ma quando questi beneficiari hanno il diritto di pretendere incondizionatamente dal trustee i redditi rivenienti dalla gestione dei beni in trust quindi il beneficiario esprime come si suol dire una capacità contributiva attuale ed effettiva nei confronti del trustee a pretendere questi redditi questi trust cosiddetti trasparenti determinano il reddito secondo le norme fiscali del tour quindi redditi fondiari redditi di capitale redditi diversi però hanno questa specificità per cui i redditi sono imputati pro quota ai beneficiari qual è l'anomalia però che questi redditi imputati beneficiari sono qualificati fiscalmente come redditi di capitale e normalmente i redditi di capitale sono fiscalmente rilevanti al momento della percezione qui rileva soltanto il mero meccanismo dell'imputazione della cosiddetta trasparenza fiscale indipendentemente dall'effettiva percezione e tutto questo è stato puntualmente indicato nella lettera g sexes dell'articolo 44 del tour ora in riferimento a questa lettera g sexes fa sì che il beneficiario individuato residente in italia produca un reddito di capitale fiscalmente rilevante già al momento dell'imputazione sia quando il trust è residente nel territorio dello stato cioè quando ha l'oggetto del principale o la sede di amministrazione del territorio dello stato oppure quando il trust trasparente e residente all'estero con la circolare 48 del 2007 si diceva che quando un beneficiario residente partecipa ad un trust trasparente residente all'estero perché il trust è domiciliato fiscalmente all'estero l'imputazione del reddito dal trust estero a favore del beneficiario individuato residente in italia deve limitarsi soltanto alla parte dei redditi prodotti nel territorio dello stato quindi trust trasparente poteva aver conseguito redditi anche di fonte estera ma l'imputazione poteva soltanto riguardare redditi di fonte italiana occorre anche precisare che se il reddito di fonte italiana è stato già soggettato ad imposta in italia con imposte sostitutive ritenute alla fonte oppure quel reddito non è fiscalmente imponibile perché parliamo per esempio di plusvalenze realizzate della cessione di immobili dopo cinque anni chiaramente quei redditi imputati non sono fiscalmente rilevanti in capo al beneficiario individuato l'elemento di novità è che la circolare a pagina 11 chiarisce però che se il trust è trasparente residente all'estero al beneficiario individuato al netto di quello che ho già detto prima si imputa anche il reddito prodotto all'estero e quindi si supera quel criterio della territorialità di trust trasparenti voi mi direte ma attenzione non ci sono tantissimi trust trasparenti nella diciamo prassi anche internazionale però questo meccanismo che l'agenzia ha voluto chiarire forse potrebbe essere stato giustificato dall'idea di considerare davvero il soggetto passivo il beneficiario individuato residente in italia e quindi attrare a tassazione il reddito ovunque prodotto come se lo producesse direttamente il beneficiario individuato residente in italia utilizzando per il tramite del trust trasparente estero questo è un elemento comunque dirompente che supera quel meccanismo di imputazione su cui l'agenzia si era basata nella circolare 48 e 2007. Professor Cassani lei ha da aggiungere qualcosa appunto su questo punto su questo argomento Giuseppe è stato come al solito preciso e chiaro ad aggiungere solo che questa circolare ha diversi aspetti positivi e negativi come le opere di ognuno di noi ma anche nella logica del rapporto fisco contribuente abbiamo delle tipologie delle fatti specie delle situazioni che godono di un'interpretazione oggi della prassi amministrativa favorevole al contribuente altre invece in cui l'interpretazione è chiamiamola benevolmente restrittiva sicuramente non favorevole i trust esteri non godono per tutta una serie di motivi di un'interpretazione pro contribuente anzi l'interpretazione è negativa ed restrittiva aggiungo soltanto che questa tesi dell'agenzia sul piano sistematico cioè considerando come opera il regime di trasparenza in generale rientra nella più ampia categoria della trasparenza fiscale per esempio quella che guida anche il regime impositivo delle società di persone ecco forse non è troppo coerente la soluzione perché gli studiosi sanno la giurisprudenza talvolta applica il principio in base al quale quando un reddito è assoggettato a tassazione per trasparenza lo si considera comunque prodotto e lo si deve determinare considerando e valorizzando l'ente intermedio questa tesi dell'agenzia come tutte le tesi è discutibile può essere contestata ma potrebbe anche essere che invece l'agenzia abbia ragione nel dire beh la trasparenza del trust è una cosa diversa dagli altri regimi di trasparenza insomma vedremo nei prossimi anni qual è la tesi che si affermerà rivista trust e attività fiduciarie in rete dimestrale di approfondimento scientifico tecnico e professionale è possibile abbonarsi alla rivista bimestrale in versione stampata e digitale ogni giovedì il bollettino avrà un'anticipazione o una notizia commentata relativa a novità in italia e all'estero per maggiori informazioni telefonare al numero 0 6 87 80 56 50 oppure per posta elettronica all'indirizzo editore chioccio la rivista tappunto eu professor corrasaniti per l'appunto il professor tassani ha diciamo così citato no i trust commerciali proprio su questo punto mi vorrei riagganciare perché abbiamo parlato di trust trasparenti ma come cambia invece l'interpretazione relativamente ai redditi distribuiti da i trust opachi commerciali fino ad oggi l'agenzia delle entrate ha sempre sostenuto che le distribuzioni di trust opachi non sono mai fiscalmente rilevanti per evitare la doppia imposizione l'evento diciamo di novità in cui c'è molto da riflettere è che in l'agenzia delle entrate a livello interpretativo è arrivata a sostenere che il trust commerciale essendo equiparato un ente commerciale quindi soggetto passivo iris produce il reddito di impresa determinato secondo le categorie tipiche di una società di capitali sostanzialmente quindi reddito di impresa e quindi può produrre dividendi che come sappiamo sono detassate 95 per cento o plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che soddisfano i requisiti delle plusvalenze esenti della cosiddetta participation exception anche queste esenti al 95 per cento quindi il trust commerciale nel momento in cui in cassa dividendi dalle sue società partecipate o realizza plusvalenze dalla cessione di partecipazioni che soddisfano i requisiti della participation exception quindi dell'articolo 87 del tour sono sostanzialmente soggetti all'imposta iris al 5 per cento dei dividendi e delle plusvalenze oggi l'agenzia dice attenzione quando il beneficiario residente di un trasto pa commerciale riceve questi redditi distribuiti dal trust ii questi redditi diventano fiscalmente rilevanti come redditi di capitale cioè alla stessa stregua di un dividendo ancorché il beneficiario non abbia mai fatto alcun apporto nei confronti del trust si limita a ricevere delle distribuzioni che derivano dall'attività di impresa questa distribuzione in capo al beneficiario è equiparato a un incasso di un dividendo e quindi il trust diventa sostituto d'imposta la giustificazione nasce dal fatto che nella norma cioè l'articolo 44 primo comma lettera e del tour considera utili non solo quelli derivanti della partecipazione al capitale o al patrimonio di soggetti passivi iris ma anche utili derivanti della partecipazione al patrimonio di enti soggetti passivi iris quindi è stata riesumata una norma che esiste dal 2004 che non è stata mai applicata in passato tenendo conto di questa interpretazione innovativa l'agenzia dice il trust può ravvedersi e applicare seppur tardivamente l'imposta sulle distribuzioni passate quindi pregresse con la ritenuta del 26 per cento con gli interessi ma senza sanzioni quanti sono i trust commerciali oggi residenti opachi nel territorio dello stato probabilmente si conteranno sul palmo di una mano perché sono pochissimi nella stragrande maggioranza sono enti non commerciali diciamo così che un minimo di possibilità questa interpretazione ce l'ha a una sua fondatezza vuole evitare salti d'imposta vuole creare a livello sistematico una parità di trattamento bisognerà capire in quali casi si può davvero configurare un'attività commerciale il professor tassani c'è ancora da lavorare insomma l'agenzia o comunque chi di dovere deve ancora fare dei passi avanti per cercare di rendere ancor più diciamo trasparente l'applicazione di queste norme e si apre una nuova stagione una nuova stagione interpretativa applicativa sarà coinvolta la dottrina fondamentale sarà coinvolta piano piano la giurisprudenza l'agenzia sarà chiamata poi a precisazioni interpretative immagino in numerosi interpelli che arriveranno da oggi in poi però ecco ci confrontiamo con un panorama normativo che sostanzialmente è rimasto quello negli anni abbiamo avuto poche modifiche ma rispetto al quale oggi l'agenzia dà delle interpretazioni in buona parte condivisibili io poi ho una tesi abbastanza negazionista sui trust commerciali nel senso che secondo me tendenzialmente salvo le residuali ipotesi che ha fatto giuseppe il trust non può essere commerciale nel senso che non è pensato come strumento giuridico per gestire un'attività di impresa la stessa stregua di una società quando ho visto ho sentito ipotizzare trust commerciali l'ho sentito e l'ho visto fare in fatti specie al limite che della o fittizietà o dell'illusione fiscale questo credo sia la base del ragionamento anche dell'agenzia che ha voluto dare un colpo a questi trust commerciali come dire disincentivandoli dall'inizio quando poi gli strumenti in realtà che non trust fittizio un trust elusivo ci sarebbero oltre a quello interpretativo per contrastarli ma come dire è stato un segnale di disincentivo la tesi che davvero è dirompente ed innovativa mi avviso due aspetti uno di critica e uno invece di sostegno quello di critica è dato dal fatto che il rapporto beneficiario trust non è un rapporto partecipativo il rapporto è partecipativo quando il socio un soggetto ha un diritto e questo diritto nello svolgimento della vita del trust il beneficiario non c'è lo ha alla fine forse eventualmente però nonostante questo la tesi dell'agenzia può essere sostenuta proprio nella logica della neutralità del 95 per cento per i dividendi distribuiti ai soggetti ires ha la propria il proprio fondamento per il fatto che il soggetto ires la società normalmente commerciale che percepisce questi dividendi non è un soggetto finale dato che alla fine della catena societaria vi è comunque una persona fisica rispetto alla quale poi ci dovrà essere una passazione più o meno ordinaria ecco il trust commerciale è un po' una via di mezzo perché è un soggetto ires che dovrebbe potrebbe godere dell'esenzione del 95 per cento ma rispetto al quale poi successivamente al momento dell'attribuzione non c'è una passazione se si segue il regime ordinario del trust opaco ecco che quindi andando a lavorare sui fondamenti di questo regime di esenzione l'agenzia ha trovato una soluzione non troppo fondata sulle norme quindi criticabile a mio avviso giusta proprio nell'ottica trasparenza questo credo che vada proprio a rafforzare mi sembra di capire sempre più l'opportunità dell'istituto del trust no perché se da una parte l'agenzia delle entrate non soltanto interpreta con la possibilità di criticare l'interpretazione ma mi sembra abbia anche un orientamento di aperture di contrasto a quelle che sono un po' le strumentalizzazioni mettiamola un po' in questo modo professor Corasaniti andiamo in chiusura vorrei chiedere appunto in quali stati o territori soprattutto a fiscalità privilegiata si considerano stabiliti i trust opachi esteri? ecco qui arriviamo un po' al cuore della ragione anche di questa circolare sulla fiscalità diretta come interpretare quella modifica normativa del 2019 che ha innovato la lettera g6s l'articolo 44 prevedendo la rilevanza fiscale nell'ambito dei redditi imputati dei trust trasparenti ovunque residenti dei trust anche i redditi corrisposti a residenti italiani da trust istituti aventi contenuto analogo stabiliti in stati o territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47 bis anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73 questa modifica normativa in qualche modo è confermativa di una interpretazione dell'agenzia delle entrate nella criticatissima circolare 61 del 2010 dove si parlava anche in quel caso di trust inesistenti fiscalmente e così via e quindi che sia una sorta di interpretazione autentica di quello che era già in passato in realtà si tratta di una novella normativa che a tutti gli effetti è innovativa e quindi deve varere dall'entrata in vigore anzi come direbbero statute di ditte contribuenti dall'anno successivo visto che parliamo di tributi periodici quindi da 2020 in avanti e poi diciamo c'era tutta la lettera G6 se faceva riferimento prima ai redditi imputati dei trust trasparenti che è il principio di imputazione mentre qui si parla di redditi distribuiti cioè il principio di cassa quindi è evidente che questa modifica normativa ha un evidente effetto innovativo ma l'agenzia cercherà di sostenere che una norma tra virgolette di interpretazione autentica anche se non l'ha scritto nel provvedimento per applicarla retroattivamente magari anche per accertamenti fiscali pendenti in sede contenziosa quindi quando il trasto pago estero paradisico distribuisce questo reddito fiscalmente rilevante ai beneficiari è un reddito che il trasto pago estero può aver prodotto in parte in italia ma anche all'estero ora il punto cruciale è capire se il trasto stabilito in stadio territorio avendo regime fiscale privilegiato debba essere un paese extra ue cioè un paese al di fuori dell'unione europea dello spazio economico europeo che garantisce l'effettivo scambio di informazioni perché la norma richiama il 47 bis ma il richiamo all'articolo 47 bis dice l'agenzia delle entrate non deve essere completo ma in quanto compatibile e quindi ritiene che il riferimento ai trasto stabiliti in stadio territorio avendo regime fiscale privilegiato debba essere rilevante con riguardo al trattamento dei redditi in quei paesi quindi se paesi dell'unione europea si fa il caso di cipro e prevedono le istituzioni di trust dove comunque il trattamento fiscale dei redditi riveniente da quei trust è sostanzialmente sottoposto a una liquida inferiore al 50 per cento nominalmente della corrispondente aliquota applicata in italia anche per i trasti istituiti in paesi dell'unione europea si applicherebbe la nuova normativa ultima considerazione molto spesso questi trust sono stabiliti in paesi dove il trust non presenta una dichiarazione dei redditi perché non è soggetto passivo di imposte però subisce le ritenute anche un trust istituito in svizzera magari subirà la preventiva sui dividendi che riceve dalla società di svizzera il 35 per cento occorrerà verificare se nel calcolo del computo di questo confronto possono avere dignità anche imposte prelevate in stati terzi rispetto a quelle in cui il trust è stabilito vedremo anche su questo se ci saranno degli interpelli a chiarimento diciamo la matassa si ingarbuglia sempre di più se andiamo ad approfondire le varie pieghe appunto di questa problematica quindi professor tassani per fare un po una sintesi di queste nostre due puntate sulla fiscalità del trust nel senso abbiamo parlato appunto nella puntata precedente come diciamo si dirimono le imposte indirette mentre questa puntata è andata sulle imposte dirette ci sono tanti casi tante particolarità tante attenzioni da fare e che potrebbero forse chissà anche scoraggiare in realtà vuole fare dei trust ma invece questo istituto ha necessità di ampliarsi sempre di più allora per quanto riguarda la fiscalità del trust come potremmo sintetizzare queste nostre due puntate ma dunque saverio non è non è facile rispondere ad una domanda di questo tipo perché la circolare è molto complessa e tocca diversi temi possiamo dire in estrema sintesi che per i soggetti che intendono costituire trasto o hanno già costituito traste quindi operano a diversi livelli come beneficiari come trasti come disponenti questo circolare chiarisce molte posizioni molte situazioni che si erano che si erano fatte complesse in termini applicativi e interpretativi e accoglie anche delle soluzioni pro contribuente chiarissimamente pro contribuente al tempo stesso ma questa è la complessità della della circolare direi della realtà e della vita in generale anche di quella giuridica abbiamo invece situazioni che impropriamente possiamo dire essere penalizzate ma comunque sono trattate in modo sicuramente non così favorevole dalla circolare in modo anche molto condivisibile per alcuni aspetti e quindi è opportuno prestare molta attenzione nella gestione delle dinamiche del del trust nelle scelte di costituzione nei beni nei momenti attributivi ci sono tanti aspetti su cui non ci siamo soffermati il consiglio quindi è sempre seguire con una grande professionalità fattispecie di questo tipo il più possibile farsi assistere consigliare da studiosi da operatori da professionisti di alto livello perché il quadro è favorevole in questo momento può essere molto favorevole ma presenta anche rischi e problematiche altrettanto importanti aggiungo semplicemente quello che è scritto a pagina 6 della circolare si fa presente che il documento tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori in esito alla consultazione pubblica aperta l'undici agosto duemilaventuno e conclusa in data 30 settembre duemilaventuno per fornire ulteriori chiarimenti su diversi aspetti relativi a disciplina fiscale del trust questo è stato un momento di confronto molto proficuo molto importante nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti sono pervenuti tanti contributi da associazioni di categoria anche l'associazione traste in italia altre associazioni studiosi interpreti ciascuno ha dato il proprio contributo e l'agenzia delle entrate in queste 65 pagine ha cercato di fare una sintesi in alcuni casi pienamente condivisibili alcuni casi criticabile migliorabile perfezionabile però almeno le regole del gioco sono chiare e quindi questa è una circolare che secondo me trasmette anche certezza agli operatori ai trust il confronto dovrebbe animare tutte le circolari prima di essere diffuse e devo riconoscere che negli ultimi anni l'agenzia centrale ha seguito questo modello di consultazione devo dire verità il lavoro è di buona qualità nel senso che sono state recepite gran parte delle considerazioni che la dottrina ha proposto grazie ancora per l'invito è stato davvero un piacevole ringrazio anche l'amico tomas tassani da questa duetto ormai ci ritroviamo in tante occasioni a confrontarci su questo bellissimo istituto che è il trust grazie giuseppe grazie saverio per l'ospitalità grazie a tutti questa è radio trust questo è tutto per l'episodio di oggi radio trust è un'iniziativa dell'associazione il trust in italia vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al nostro podcast che trovate sulle principali piattaforme come itunes e spotify per ascoltare tutte le puntate di radio trust è possibile collegarsi al sito web digitando radio trust punto it ciao a tutti da saverio zeni sei su radio trust il podcast di approfondimento scientifico tecnico e professionale grazie a tutti